La Matrix Divina, pubblicata nel 2007, è attualmente una finalista per il premio americano al miglior libro scientifico del 2007 negli Stati Uniti. Quindi sono onorato e mi fa pensare che stiamo trovando il linguaggio giusto per comunicare questi concetti nuovissimi, rendendoli significativi alla gente. E questo è esattamente quello che speriamo di fare. Le persone mi chiedono spesso riguardo alla mia pratica spirituale quotidiana, ma penso che siamo tutti diversi e cose diverse funzionano in modo diverso per ognuno di noi. Allora, personalmente, vi dico che sono nato in una zona fortemente conservatrice degli Stati Uniti, nel Midwest. I miei genitori hanno divorziato quando avevo 11 anni e mia madre, mio fratello ed io abbiamo cambiato spessissimo città. Ho frequentato molte scuole diverse e ogni volta che traslocavamo facevo amicizia con ragazzi che avevano nuove credenze, che erano di religioni diverse e avevano tradizioni diverse e che mi invitavano a partecipare con loro, in sinagoga, alla moschea, alla cattedrale, alla chiesa, alla messa solenne. Ho scoperto che mi sentivo sempre a mio agio in qualsiasi contesto spirituale o religioso, ma ho capito che per me, personalmente, nessuna religione mi sembrava una risposta completa. Ognuna aveva dei pezzi e la mia pratica personale, quindi, raccoglie i pezzi di molte religioni diverse per creare un mio personale cammino nella vita. Sono stato cresciuto con una dieta vegetariana. Non mangiavo carne e ancora oggi non mangio carne. È un'altra pratica personale. Mi sento meglio, mi sento sano. Il mio corpo funziona bene, quindi questo fa parte della mia pratica. Ma non tutti sono così. È una scelta molto personale. Lo yoga è stato molto, molto… negli ultimi 35 anni ha fatto parte della mia vita e ho studiato arti marziali da giovane e all'inizio dell'allenamento e alla fine avevamo sempre un paio di minuti per lo yoga e la meditazione. E per me questo era più importante dell'allenamento stesso, l'inizio e la fine. Allora ho capito che questa era una pratica importante per me. Ho imparato da una guida Sikh negli anni Ottanta, un tipo molto specifico di yoga che mi accompagna quotidianamente in ogni stanza d'albergo o campeggio, in ogni monastero che visito in giro per il mondo. È qualcosa che mi aiuta a mantenere la centratura nella vita. Alla fine di ogni giornata è importante per me pensare a quello che ho vissuto e chiedermi se ho onorato il mio corpo con la migliore alimentazione disponibile, se ho onorato il mio corpo con le migliori pratiche possibili, se ho onorato i miei impegni verso gli altri e se ho onorato gli impegni con me stesso. Mi chiedo se ho lasciato oggi il pianeta un posto migliore rispetto a quando mi sono svegliato al mattino. Questa è la mia pratica personale che può assumere forme diverse. Se passo le mie giornate negli aeroporti, ovviamente non posso fare lo yoga, ma posso fare sempre del mio meglio per aiutare gli altri durante il giorno e per lasciare ogni posto che frequento un posto migliore di come l'ho lasciato, possesso un gabinetto in un bagno pubblico, il lavandino o la poltrona sull'aereo. Si può sempre fare qualcosa per renderlo un posto migliore. Ecco, questo riassume la mia pratica personale e ho visto che funziona bene per me. Quindi la domanda che tutti mi fanno in giro per il mondo è la seguente. Dicono, capiamo che esiste un campo energetico che collega tutte le cose e che le cose sono collegate tra loro. Capiamo che le nostre esperienze interne di pensieri, sentimento, emozioni e credenze influenzano il mondo esterno. Capiamo che siamo in un'epoca di grande cambiamento, ma la domanda è cosa facciamo? Come uniamo tutte le cose per farle diventare uno stile di vita? La risposta a questo è che non esiste una risposta unica. Ognuno di noi impara diversamente, ognuno pensa diversamente, ognuno risponde diversamente alla vita e questo è il motivo per cui esistono così tante pratiche spirituali diverse e ci sono così tanti bravi maestri in vita sul pianeta ancora oggi. Ognuno di loro porta una prospettiva leggermente diversa alle grandi domande e certe persone imparano meglio da alcuni che da altri. alcuni dicono che le mie parole sono troppo tecniche, altri dicono che le mie parole non sono abbastanza tecniche, quindi alcuni potrebbero capire i miei discorsi, mentre altri potrebbero rivolgersi ad un altro maestro spirituale. Quello che dobbiamo fare, a mio avviso, è capire che ogni giorno porterà delle novità e dei cambiamenti e non sappiamo quali saranno questi cambiamenti. Quindi la chiave di tutto è maturare la convinzione che siamo al sicuro e che stiamo bene nel mondo, che i nostri corpi hanno una saggezza, una saggezza interna che ci aiuterà a sopravvivere e a trascendere tutto quello che può accaderci. Questo dobbiamo saperlo. Ognuno di noi deve trovare per sé questa convinzione a modo suo, sapendo che stiamo nel mondo per sperimentare le sfide che la vita ci offre e che già siamo in possesso di tutti gli strumenti necessari per superarle. Credo questo sia il punto. Ogni giorno della vita porterà delle novità per aiutarci a capire. Potremo perdere il lavoro, potremo divorziare, potremo ammalarci o soffrire, potremo ritrovarci in guerra. Tutte queste cose comportano grandi, cambiamenti. Ora stiamo scoprendo che individualmente e collettivamente siamo una famiglia e abbiamo bisogno gli uni degli altri che lavorando insieme e onorando i nostri rapporti, onorando i principi della vita, possiamo superare qualsiasi sfida. Questa è la nuova grande pratica spirituale delle masse. Ora che stiamo attraversando le più grandi sfide mai registrate nella storia umana, con cambi climatici inaspettati e imprevedibili, il livello del mare che sale, le isole dell'Asia che stanno lì da secoli e che rischiano di essere sommerse e le persone che non hanno case. In Cina, ora ha piovuto per due settimane, le dighe hanno rotto gli argini, centinaia di milioni di persone sono attualmente senza casa. C'è stato un violento terremoto. Negli Stati Uniti il clima sta cambiando, ci sono alluvioni e non riusciamo a procurare il cibo come abbiamo sempre fatto e nei posti dove lo crescevamo. Sta succedendo dappertutto e nessuno ne è immune. Ora, se riusciamo a capire di essere una famiglia e vedere che abbiamo bisogno gli uni degli altri, allora la nostra tecnologia può lavorare insieme alle antiche tradizioni delle popolazioni del mondo e in questa maniera riusciremo a unirci e superare questo periodo, questo periodo di tempo che i si chiamavano nessun tempo. Riusciremo a superarlo perché ognuno ha qualcosa che serve all'altro. Potremmo condividere e cooperare e questo è il modo migliore per affrontare questo periodo storico, piuttosto che la competizione che ci fa pensare che le risorse non bastino e che bisogna accapparrarsi una parte perché altrimenti non ce ne sarà sufficienza per noi e per le nostre famiglie quando ci servirà. Credo questo sia a un livello alto, sia il grande cammino spirituale al quale siamo tutti invitati a partecipare. I risultati li vedremo presto. Grazie.